Ciao, buonasera a tutti, volevo darvi in diretta i risultati della votazione sul contratto di governo. Hanno votato 44.796 persone e di queste 44.000 hanno votato a favore 42.274, cioè più del 94% degli iscritti che hanno votato ha votato a favore di questo contratto. 2.522 hanno votato no al contratto di governo ed è un grandissimo risultato, un plebiscito di fiducia e di entusiasmo che ci mette sulla strada giusta per questo governo perché con questa votazione diamo il via alla firma del contratto di governo. Adesso ci saranno tutte le procedure, ci metteremo al lavoro per formare la squadra di governo e ci sarà la firma del contratto. Oggi ho letto che anche l'Assemblea federale della Lega ha dato l'ok al contratto, quindi siamo a pochi passi non da realizzare un governo, siamo a pochi passi da realizzare i punti del nostro programma. Io sono molto orgoglioso, l'ho detto tutta la giornata, non so se andrò a fare il Presidente del Consiglio, ma so di aver portato al governo il nostro vero leader che è il programma e lo abbiamo portato a partire dalla prima stella delle 5 stelle, l'acqua, l'acqua pubblica entra nel programma di governo, nel contratto di governo che è una rivoluzione culturale del nostro Paese, entra nel nostro contratto di governo il blocco dei lavori della TAV in Val di Susa utilizzando lo stesso accordo Italia-Francia, sedendoci al tavolo con la Francia e dicendogli mi dispiace ma quest'opera è superata, portiamo all'interno il reddito di cittadinanza, portiamo nel contratto di governo il conflitto di interessi e le leggi anticorruzione, portiamo al contratto di governo la lotta al gioco d'azzardo con misure specifiche che rivoluzioneranno il mondo del gioco d'azzardo e cominceranno a salvare qualche famiglia che è finita sul lastrico per questo, i tagli agli sprechi, via i vitalizi, via le pensioni d'oro, auto blu, voli di Stato, scorte inutili, metteremo mano a tutta questa roba, c'è dentro nuove politiche turistiche per rilanciare il Sud ma non solo, ci sono dentro la banca degli investimenti che ci servirà per fare gli investimenti nell'edilizia scolastica, nelle infrastrutture, c'è dentro l'Italia che avete sempre sognato, non dico che sarà semplice realizzare tutto ma con questo risultato, con questo plebiscito del 94% portiamo in dote in questo governo la fiducia degli iscritti del Movimento che insieme a tutti gli elettori che ci hanno votato il 4 marzo 11 milioni, il 33% quasi dei consensi faranno sì da cominciare a realizzare i diritti dei cittadini, soprattutto quelli sociali, quelli che sono stati distrutti dalla cosiddetta sinistra, dovremo rimetterli a posto e li rimetteremo a posto cominciando a sancire il diritto anche al salario minimo garantito, è un'altra rivoluzione nel mondo del lavoro e della precarietà, c'è un minimo di salario che ti devono pagare al di sotto del quale non si scende, è dentro questo contratto che significa che non ti possono più pagare pochi euro per una giornata di lavoro perché porti il cibo a casa delle persone in bicicletta c'è bisogno di ripristinare i diritti sociali che sono stati distrutti e questo contratto lo fa, certo c'è qualcuno che dice ma manca qualcosa, io vi dico ci sono tutti i 20 punti della campagna elettorale, ci sono le 5 stelle all'interno di questo contratto, ci sono i punti dell'altra forza politica che è venuta al tavolo, c'è lo stop al business dell'immigrazione, dobbiamo lavorare soltanto per i prossimi 5 anni per realizzare questi punti ma sono molto fiducioso e molta di questa battaglia non si giocherà solo nei ministeri in Italia, in Parlamento in Italia ma anche in Europa dove il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, il nostro Ministro dell'Economia, il nostro Ministro degli Esteri e degli Affari dell'Unione Europea dovranno andare a portare le nostre istanze a quei tavoli. Sono molto fiducioso, oggi mettiamo un'altra pietra a miliare del nostro percorso che è durato circa 80 giorni ma che ci sta portando verso un governo del cambiamento, un governo magari inaspettato ma di certo votato e che non si fonda sui cambi di casacca e sui volta gabbana. Ciao a tutti!